Oggi lavoro alta intensità, 20 secondi di esercizio, 10 di pausa. Primo blocco durerà 4 minuti, quindi saranno 4 giri totali e faremo bar piece, 20 secondi, 10 secondi di pausa, 20 secondi di squat jump, 10 secondi di pausa. Tutto questo ripetuto 4 volte, alla fine del blocco da 4 avremo 1 minuto di pausa. Pronti? Andiamo! Pausa 10 secondi, pronti con lo squat jump. Ok? 5, 4, 3, 2, 1, vai! Mantenere sempre l'intensità più alta possibile. Pausa, si riparte, bar piece. Vai! Pronti con lo squat jump. 5, 4, 3, 2, 1, vai! Ottimo! Siamo a metà! Pronti di nuovo a fare bar piece. Chi non ce la fa più, fa mezzo a bar piece. Quindi questo, braccia tese, salvo! Anche per lo squat, chi non è più e non riesce più a fare il salto, squat è normale. Ok? Quindi scendo e salvo. Chi invece riesce, continua a saldare. Ultimo giro di butt piece. Che riesce. Non c'è salvo. Spesso! Non c'è salvo. Chi non c'è salvo. Chi non c'è salvo. ultimo squat jump, e ci siamo 3, 2, 1, vai Ok, blocco di lavoro, 4 minuti molto intensi, aspettate un minuto e poi ripetete ulteriormente un'altra volta